Settima giornata Super Cup, Guanciotti contro Diablos, risultato 1-0 a favore dei Guanciotti. Sono Diablos però in questa fase della partita, tenersi per lo più in avanti. Di parte dal fallo laterale, passa per i piedi del portiere, poi il passaggio, Bilenio, il fallo laterale a favore dei Guanciotti. Palla ancora in avanti, c'è stare a base, con 2-B però. Damato. Perde il contrasto di fallo laterale per la Falla a favore della sua squadra. Diablos. Palla ancora in avanti, esce bene la difesa di Guanciotti, poi Arcovinto scopre la fuoriuscita del pallone. Damato subisce un fallo, l'arbitro lascia andare. Palla ancora in avanti. Fa buona guardia la broca. Avanzano bene adesso i Guanciotti. Con il dribbling, il tiro! Ed il gol. 2-0. Palla laterale, quindi. Ecco vinto il tiro. La parata di Dablosca, che poi spazza in avanti. Palla laterale, no, palla sul fondo. Chiamocco il collegamento. Ciao!